Nel progetto Artaclimi il ruolo della città metropolitana è di soggetto attuatore in quanto la maggior parte del progetto verte sulla ricerca quindi è gestita direttamente dal Politecnico e da ISBE che sono istituti di ricerca e quindi svolgono la loro funzione. È stato poi scelto di usare come area di test la zona omogenea del Pinerolese e compito quindi alla città metropolitana è confrontarsi con il territorio in maniera tale da recuperare da un lato quelli che sono i dati che servono per testare l'obiettivo del progetto che è verificare la resilienza di un territorio a quelli che sono i cambiamenti climatici e quindi naturalmente per fare questo verrà definito dagli istituti di ricerca un set di indicatori e dovranno essere poi trovati i dati che permettono di calcolare questi set di indicatori che definiscono appunto la capacità che un territorio ha di reggere a quelli che sono i mutamenti climatici.